Ciao ragazze, allora buonasera a tutte e a tutti Allora, un nuovo video, vlog, un altro vlog, sì, perché mi riempio di video vlog ultimamente E come state? Spero bene, niente Per dirvi a voi che mi piace molto fare questi video vlog anche di sera Per dirvi che forse lo continuerò fino a domani, non ne ho idea Per 5 o 7 giorni, vediamo, ma se l'ho esagerato Quindi penso per 7 giorni, non lo so neanche io Comunque, nulla, mi vedete così, maglietta, non sono nuda, ve lo giuro Non ci mancherebbe altro, insomma, ho questa singola annuntiera, ma meglio che mi metto così Niente, nulla, sto bene, sto cercando di fare tanti video vlog Sempre che voi vi piacciono, ma penso di sì E nulla, pensavo che volevo fare altri video e li farò ovviamente l'uno appresso all'altro Intanto mi vedete tutta la mia bella camera disordinata, ma chissene Già E niente, nel frattempo adesso qua sono le... aspettate un attimo Sono le 19.58 come potete ben vedere Le 19.58, sì le 7, quasi le 8 sono Quindi, niente Io adesso vi saluto e vi auguro buona cena Perché non lo so se riesco a vloggare Quanto grande è questo video vlog, non ne ho idea Ok? E niente Scusate per l'altro video che vi ho messo Dove vi dico mi hanno già smetterla, ma non voglio sentire queste parole nei confronti Di chi non... di chi non... vabbè Non voglio fare nomi, non mi interessa, l'ho già fatta mia nonna Quindi evitate di ascoltare troppo quel vlog Se lo volete Se no ascoltatelo pure, ma cercate di non criticare troppo Vabbè Fate come mi pare, basta che non mi linciate Per quello che avete sentito dalla bocca di mia nonna Ovviamente E niente Ok, dunque Adesso io mi vado a cena Perché non so neanche io quanto sarò a cena Cioè, mangio una bistecca, nulla di che Insalata no, perché l'ho già mangiata Anzi, stamattina a pranzo Per pranzo l'ho già mangiata E quindi penso di mangiarla Di non mangiarla per cena Di mangiare solamente una bella bistecca al sangue Non lo so come Con il rostito, vediamo E niente Scusate la voce Se sentite rumori estranei al video E la televisione sottofondo Camino la sto ascoltando Tempeste d'amore Come il suo solito, già E niente Ah Mi ho appena fatto le sopracciglia Perché erano veramente inguardabili E anche mi ho fatto un bello scrub Un qualcosa Mi sono bella pulita Adesso sto leggermente bene Diciamo E' migliorata un po' La mia pelle Non del tutto Ma quasi Quindi vabbè Domani mi trucco Farò un get ready with me Ok? E niente E quindi Non lo so Vediamo Comunque Niente ragazze Io ci pensavo di vlogare molto Ma da quanto pare Ho vlogato ben poco E va bene Così Già E nulla Nel prossimo video vlog Voglio annunciare un'altra cosa Che Non so se dirvi la verità o meno Ma Mi sento In dovere di dirvela Non in dovere Però Quasi Quindi non lo so Se dirvela O meno Boh Vabbè Ok A presto Ciao Buona cena a tutte E buon Buon sonno a tutte Ciao A domani mattina Ciao